è curioso di vedere come ha metri per andare Grealish, occasione portiere che si allunga e sventa la minaccia Bruno Fernandes prova a sorprenderlo palo, ma il bravo, rimpinguare il bottino De Jong De Jong si truffa se l'è bevuto Bruno Fernandes conclusione al volo gran palla di Messi Bruno Fernandes prova a piazzare pericolo, balla in gioco mettendosi sulla traiettoria giusta Origi palo che restringe il pallone hanno risputato questa conclusione Cristiano Ronaldo portiere che sventa la conclusione Origi posizione ideale Vidal Duma il punteggio si sblocca tifosi impazziti dopo i gol compro insieme in un pa benissimo è il pallone è il pallone del pareggio conclusione potente ma è buona lettura dell'azione ha intercettato bene il passaggio si libera la grande CR7 sono di nuovo in parità grazie a questa rete non mollano non ci stanno a perdere continuano a lottare su ogni pallone ma l'interessante dello spazio comanda non può sbagliare portiere che smetta la conclusione senza problemi bravo tra le braccia del portiere buona lettura del difensore su un pallone profondo pericoloso ma l'invitante attenzione Vellegrini e con questo gol passa in vantaggio vedete dovrebbe rivelarsi decisiva difficile ipotizzare a questo punto una reazione da parte della squadra avversaria hanno spezzato l'equilibrio portandosi in vantaggio in pieno recupero si fa durissima ora per la squadra avversaria vedremo se avranno il tempo per abbozzare una minima reazione ecco il triplice fischio dell'arbitro partita equilibrata risultato in birico fino all'ultimo alla fine però l'hanno sfruttata loro sia pure lì Grealish ok